Bravo! 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 Buona la marcia, eh! Grazie, grazie, grazie! Bravo! Tu c'è la buona? Oh, c'è la buona. Magari l'avessi scritta io. Magari l'avessi scritta io. Ci portava un anno in Sardegna gratis tutti. Mi guardavate dal telefono, cantavo là. Signori, vi dico grazie. Grazie per questa grande soddisfazione. Come ho detto prima, poche ore dormite, un pochino ancora da rodare, però veramente quest'oggi è stata una giornata meravigliosa. Grazie a tutti quanti, eh! E' distanzialmente, grazie. Molto bene, molto bene. Vi presento una novità del 2024. Io ho fatto 20 anni senza la cantante e loro ho detto adesso basta. Metto sul palco una bella gnocca, così gli uomini sono contenti. Con la minigonna. E la finna tardò con la minigonna. Signori, la mia cantante è Marco Zetta! Allora, sai che io sono un rompi... Sì, sì. Silenzio! Silenzio lì! Dormi! Tagliali le dita! Allora, visto che veramente quello che ho detto prima non mi capita spesso di poter condividere le giornate con gli amici, con i colleghi con cui posso veramente divertirmi come abbiamo fatto prima, di vederci le canzone. Adesso fa... Non hai finito. Non hai finito. Tanto hai dormito poco, dormi poco un'ora. Ma io spero che questa sera la direzione del locale si ricordi che momenti diventa un po' merito a sera. Sì, ma... Dalle 4 e mezza è scattato nel secondo stipendio. Triano! Sì, no! Sono già da piccolare i soldi. Sì. Allora, io faccio un omaggio visto che noi siamo ragazzi giovani. Sì. Noio. Sì, sì, sì. Però abbiamo la passione, veramente, questi cantanti, veramente della musica popolare italiana nel mondo. Io ho fatto un midley, che sarebbe un biscuglio. Sì. Di canzoni che tu sai a memoria, come me. Quindi, io tacco, te quando la sai, e... Sì, sì. Come sì, sì? Vero che devi cantare con me? Sì! Tanto incomincia, che io sono già posto, però adesso... Non so cosa farlo, e questo tanto viene un mercato... Mi viene ansia, che non so mai... Ma che ansia, dai! Vai! Ma... sicuro che... Ma... Non mi garantisco cosa fare, non lo so. De non pensarci... De non pensarci... Premiamo... Bravo! De non pensarci... Signor Maria Pientigrappa... Grazie a pre... E non pensare a me... Continua pure... Continua pure la tua strada... Senza ai mani... Pensare a me... Da... Da... Cosa vuoi... Se è stata solo una parentesi... Tra noi... Non dirlo, eh? La vita... La vita... La vita... Continuerà... Il mondo... Non si perderà... Non me gustarà a me... Il sole non si spenderà... Con te... Anche... Anche... Si morri il suo seno... Andiamo... Anche... Gravata! Oh... Ehi! 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 A... A... Ehi! Nel cuore di mani Madonna, Maria, te vissi da te Di questo mio tronco del zingaro Addio, ragazzo, antica paese Luce di sangue e amore L'orchestra è Passiamo per me E qua, un per tre Tutti, un per tre E qua, vai Madonna, Maria, te vissi la pena Di questo mio cuore Il zingaro Madonna, Maria, te vissi da te Romantica paese Di luce di sangue e amore Maurizio 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 Lodeo La storia più antica del mondo Chi che ce la dà, la prendiamo Ma voi datela Che si dà, che si dà Quando un uomo mi compra una donna Che si dà, che si dà Ogni uomo mi ama lo sa Ti mi dà Ti mi dà La cosa più bella che ha Io non dico La cosa più bella che so Ti mi dà La cosa più bella che ha Io non dico Io non dico La cosa più bella che ho Un amore così grande E dico Un amore così Un amore così Un amore così Altro corpo dentro i luoghi Un amore Un silenzio Un amore E la mostra qua si accende Si accende Quando la infanzia Un amore Non si va con tutti queste cose qua Dario Maurizio Ambo caldo dentro nelle luoghi Poi la bomba si accende, si accende un'altra volta. Poi la bomba si accende, si accende, si accende un'altra volta. Grazie a tutti! Perché adesso è in tutto breve a canter, adesso vanno alla coppia, alla coppia è un reparto, c'è un reparto canzoni e voci, ci sono quelle surgelate, ci sono quelle fresche, le vendono al chilo a letto e sul chilo a letto io mi do un bel da fare. Grazie Marco per aver accettato intanto l'invito delle acace, grazie per aver portato anche una bella fascia dei tuoi amici che sono carissimi amici che noi ogni tanto ci si incontra ma ovviamente seguono tanto te ed è giusto che sia così. Sono molto contento che ci hanno colto e ci hanno abbracciato. Grazie a tutti! Grazie a tutti voi! Signor Maurizio De Deo! Maestro De Deo! Grazie a tutti!